ok ragazzi online questa volta non è roblox è among us per mobile allora io sì io ho startato la live ma non ho preparato niente bravo francesco così si fa allora 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 cattura finestra questa non va perché c'è i cavoli suoi tac tac questa l'abbia sistemata poi e poi poi allora chi è che manca l'appello qua io come sempre ok perfetto allora titolo among us si può che io stato ancora con la roba di roblox ha spinto ha spinto era il corso ma voi quando riesce il caricamento che cos'è che riesce a caricamento ti dice online no no intendo per entrare nel gioco te cosa esce che ti fa in tre basse quando lo apro entra e mi dà le scritte dice online o host c'è o local tu vai online fai dove c'è scritto privato metti il codice dentro sarebbe bello aspetta senti fai la live un attimo su disco di faccio vedere se poi o mi si può incontrare ad versi polisi among us e atti cosa devo schiacciare devo fare accept online poi online scrivi valido c'è scritto privato server e scrivi z o y a premi la freccetta che arriva sono un gas da mobile gioia il codice z o y a un attimo vuoi stare blu tax ma tutto maiuscolo se si promette in automatico beh volete una partita è solo blu staccino perché comincia ragami incomincio serini gioia dove stai giocando fatto freccina a dove metto il nome io ci sono e ho fatto no no ma si è ora anche qua mi chiamo fantasma fantasmino io si dai no no un fantasmino che mi chiamano perché mi chiamano la schiena novello neo comunque è di tuttora è prima di dare accuse si può anche schifare il voto ma il lo facciamo privato senza gente a caso è già privato siamo già dentro noi sì ma io adesso se risalando blu stax siccome avevo spostato sul disco di che il discorso della scena era pieno appena viene danni fai start no saltate già saltate già io non ho idea di come si giochi ragazzi io dico sono io i cremate sono innocenti l'impostore vuol dire che è impostore ma è impostore adesso sia l'impostore e vabbè e fin qua bisogna fare tasca bisogna fare tasca come che si capisce se sei un è un fettore un coso di un infettore qualcosa di un infettore ho schiacciato ho schiacciato per sbagliare una cosa io dico che a gol di scopi da che schifo chippate io sto guardando la live mi sento preso in causa perché mi avete votato ma perché gol dell'ha buttato te ok va bene se mi buttavo fuori scleravo l'impostore è rimasto allora è gol ma avrattate zitti non avete visto niente non potete dire nessuno potete dire i sospetti se avete un sospetto lo potete dire e se ne discute sto vagando a caso io dovrebbe ma com'è che dove schiacciare qualcosa io sto facendo le tasche facciamo una leva ci piani due devo fare tanzare sul diverso del power to nuovo è in città io sono passato a miglior vita allora ragazzi trovai il cadavere i nuovi porti ragazzi io non sto capendo quello dovevo fare in tutto ciò c'è io sto girando da caso eh fantasma via danni mi vedi no si è fantasma io cos'è che devo fare ragazzi io mi sto guardando dalla live ti devo farlo no allora allora credo di sapere oh è uno schiettato io so che 9 non è 9 io credo che ho le prove perché 9 era vicino a me sai chi vota chi voti te io golden bravo si raga avete fatto la cosa più giusta è lui golden golden ha avuto a cima all'inizio vai golden è una buon palese ma lei è avuto la gente see you next time ma io mi sono chiamato potete aspettare io voglio capire perché mi sono messo di nome non ho messo no tutte cose papà è perché mi è partita la pubblicità del cavolo no che si fa allora va levati sta schipezza ma cos'è ma rimetti lo fisco aspetta vai tutto il diavolo si fa lo credo io aspetta ma devo mettere un altro codice aspetta eh ah no raga non fate exit game ma allora così siamo fuori e a me me l'ha fatto fare da solo mi ha fatto uscire da solo no dovresti cliccare in teoria boh no a me l'ha fatto proprio uscire da solo non stavo facendo nient'altro ma che si fa che sto a fare non lo so cosa sto facendo questo cazzo di cosa basta che clicchi ok ok c'è diciamo così ma hai fatto eh e riapriamo ma perché mi fa un caricamento molto lungo tipo dice 40 secondi ma sono una cosa di 3 minuti e il codice è sempre gioia è diventato infatti gioia Z o Y ah fantasma è un ciccio che sta mangiando buon appetito io ho mangiato prima anch'io sarà Dani lui di solito pranzo a quest'ora pranzo lei non sta mangiando adesso no non si capisce no ti giuro c'è la voce da una che mangia ho la vostra sempre uguale io non è vero ma non mi usa ciò a sto gioco perché si è inchiodato tutto non si è inchiodato eh no guarda qui ci siamo nero ci mette te lo è per caricare e tu picchi dei più anche te le pubblicità eh beh è uscito all'improvviso stavo facendo altro che sindaco has io no non puoi essere più blu papà perché perché l'ho usato sindaco con il blu maledetto è un teco di zola Z o Y vai io sono uno chef infatti per farlo avete già iniziato si vede che schifo verde verde pisello no per il pisello non si vede lo schermo in live non si vede ma perché c'è Brawl per tutto questo tempo loro non l'hanno visto no no prima ho visto prima ho visto anche frosti colesterol tutti qua colesterol ok che frosti buonasera raga non si avvia blu stax eh ma ci mette un po' eh vi ero mancato no vi ero mancato la cifra oddio ma con le letti con la maschera mi sono accamati con la maschera a gas tranquilli ci sono tornato con l'escenola mi sta troppo ma raga io devo capire come si fanno lì le letà scomma perché avete il ping così eh vabbè ma che palle però eh non facete per capire come funziona questo gioco che è puntualmente schiatto c'è eh 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 non vedo ne che babone se ne vada allora ok ok come si gioca ragazzi io non riesco a fare niente c'è io so che lasciate almeno sisco in vita chiunque sia sisco e schiattato che chi coi si roglie che coi si roglie che i posti prima di tutto sisco eh che è che sta votando com'è che si chiama la sanza among us no no raga io dico una io dico secondo me una cosa secondo me può essere uno con la schiena azzurra è una supposizione vabbè ok ma ho fatto una stanza privata sì e qual è la password zoia zoia ragazzi mi dite per favore come si fanno le tasche che non riesca a saperlo ogni volta che ci provo a farne mezzo vengo pugnalato sparato e tra le fix io non mi sia via bluestacks ah eccolo ho capito eh ma che palle ma fate giocare due secondi che 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 fantasma perché lo fai cosa hai visto io so chi è chi è ma come fai a dirlo ma raga ma ha schifato il voto ma io bravo ragazzi danni sta essendo troppo vabbè sono io papà sono io che ti ho ammazzato non posso dirlo eh rai vabbè se potrebbe dire direbbe ma che colesterone non conferma e non smentisco come disse mo che colesterone raga non ho capito la password della stanza z o y a e vabbè raga ma siete stupidi ma no basta ma perché vabbè e niente non si può entrare si sono proprio io eh ma povera ma perché state facendo il round oh ragazzi riuscite a fare 30 secondi di gioco senza rompere i maroni così eh sindaco che nome ho capito comunque sisco ho capito come si fanno le tasche io sono ancora arrivato per esempio cioè allora ti spiego tu devi schiacciare nella mappa sopra e la mappa sopra ti dice il luogo dove si trovano le tasche e tu ci devi andare c'è tipo un punto esclamativo e dove è la mappa io non vedo neanche la mappa è tipo quella cosa sopra ok devo fare questa infatti ora ho completato la task per esempio adesso schiaccio sulla mappa e vado alla prossima ok godon ciccio stai lontano no no sindaco stami lontano io sto facendo le tasse anche te ma io ho fatto di male ma poi lo dico perché mi sentri sempre adesso perché mi avete chiccato questa come si fa Dani devi collegare devi tenere schiacciato ah no te ne schiacciate e adesso io dico ma perché mi avete mi avete chiccato se non avete né prove e non mi avete manco visto perché stanno giocando a chiappe a chiappe a chiappe mochi ma giocano a caso a caso a caso giocano ok tec ciao sisco tec 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 comunque fantasmi e colesterol non sono perché stavano facendo le tasche e si capisce da quello beh ci sono le fake task del dell'impostore ma non lo so più io ma anche io sempre questo più che altro l'impostore corrompe cioè io continuo a fare le tasche però che continuano a uscire di nuove io so dati l'impostore perché l'ho vista dalla live di sisco che è sussumalo oddio qua cosa devo fare da lui è tanto danni danni è uscito eh sindaco dimmi lo scrive in privato vai vai che spaventa pensavo che Gianluca mi aveva ucciso invece era sticoso no se non sono io raga io voto Frosty perché mi sembra un po' strano no no ci avrebbe già ucciso non è vero io non l'ho mai incontrato io non l'ho mai incontrato ma che è Frosty quindi provo io provo su Frosty non l'ho mai incontrato noi non possiamo votare vero no no se no vabbè sì perché noi sappiamo è giù hanno fatto giusto arrivo subito sisco ho restato il computer per aprire bluestacks se no allora o è Frosty o è sindaco questo lo sappiamo è sindaco secondo me per me è Frosty no Frosty non è Frosty non è perché mi ha già ucciso e mi sa che Frosty mi avrebbe già ucciso no no mi avrebbe già ucciso non è lui io seguo il sindaco ok Frosty non è mi avrebbe già ucciso anche a me quindi sappia anche votare la prossima volta ce ne va ok sì prossimo cadavere raga la prima persona che si sente se sta rizzita sappiamo che è morta poi il sindaco non ho mai parlato infatti il sindaco parla c'è il sindaco io ho visto qualcuno morire poverino tu sei morto non devi parlare e cosa c'entra parla quello che mi butta a caso parla con più lui o forse ragazzi io proprio sto per ma dai ma ci è passato dovete fatta riportalo riportalo scappa ok vai riporta riporta ok povero goldel so chi è stato vai votatelo 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 lo spaccavo il mouse io stavo per completare le task votatelo 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 devo aspettare che finisca il round io per direi che questo è un plebiscito tiè guarda come gira guardalo guardalo sindaco you are trigger gli piace chi cazzo un'altra volta no 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 fa solamente try guarda qua che esce questo vai chiudi raga è è è è il capo raga che è il capo che è il capo gioia eccomi gioia chi mi spegne a me non mi fa entrare non mi fa circa la mappa raga mi dice che non mi fa entrare ok un attimo chiaramente credo che adesso mi aprile bluestacks raga lo credo lo creo io no aspetta lo rifaccio io infatti io puoi farete anche qua c'è gente strana guarda devi metterlo privato non lasciarlo pubblico perché prima l'avevate messo pubblico j s r g non mi si apre ancora bluestacks però j s r non mi va anche a me come ripetuta volte ma anche server siete 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 tipo in europa ok non mi entrare anche in bluestacks che i s r g mentre proprio su bluestacks non fico ok che bab c'è l'entrata nave guardami infatti se ci fai allora se tu mi guardi io ho un coso da 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 cuoco infatti io preparo un kebab si raga chi è che si chiama banana voi chiedete i vostri nomi boh io io mi sono chiamato così che colistevo al banana frosti come io banana mi sono chiamato così perché sapevo che esisteva al berretto allora era divertente il berretto sì mi piaceva il berretto non guarda la mia testa col berretto c'è una banana allora mi piaceva il nome è molto meglio noi facciamo startiamo sì 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 vai allora ma non è entrato in bluestacks è entrato in bluestacks l'ultimo ma è un po' di ping che sono grigio adesso sto lontano a tutti chi mi butta e adesso io dico chi mi butta senza le prove che masi è un po' di perché mi fa la tasca oh scusa allora non te la mani fai un minuto cos'è sa che babbari fai un minuto com'è che si fa sta tasca non mi so bene qualsiasco veni qua non ho capito fate una tasca scana via no ciao ho fatto la tasca ma le stesse alle stesse sta seguendo troppo prosti vattene vattene andate velocemente le frecce velocemente che frecce ragazzi ragazzi al sabotaggio fate proprio lo schifo ma non vedo frecce eccole ragazzi fate proprio lo schifo però per fare sta cosa fatelo fatelo e vabbè ma è meglio se ci siano tante persone perché l'assassino ragazzi cerco via 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 raga raga ma è meglio se ci siano tante persone l'assassino deve aspettare altri secondi tipo dopo aver accoltellato una persona quindi cioè alla fine lo puoi sgammare subito ok io faccio l'emergenza però mi si apre bruttax allora io io voto per 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 banana perché mi pare strano seguiva troppo sisco sembra che ci abbia 100 euro attaccato alle chiappe io l'ho voto per sicurezza io fantasma banana stava facendo le tasche uguali a sisco diciamo che però ha avuto occasioni per ammazzarmi non l'ha fatta io ho veramente se mi buttate fuori che non sono ancora stato il ma skipate non avete prove povero banana povero banana no madonna dai non dovete votare però se non avete fatto fuori un innocente si una povera se siete voi tutti gli no raga non ci gioco più no ragazzi io non ci gioco più dovete giocare così si chiusa bene non possono anche giocare adesso senti adesso ho fatto prima io Ale no mi dispiace pensateci prima di votare questa cosa che tasche ma scusate io voglio giocare scusatevi le mani quelle che babbara di un novellano e ci abbiamo un problema ci c'è un scegno che voglio dire god cosa ho fatto io perché te sei 9 c dove la missione che non sto capire non posso sapere queste cose no rega però io non so ma qual è il tasto per uccidere quello il problema lo dice basta adesso così dai mamma non si apre proprio bruce tax posso dire al suo aspetto che avevo io di bruce tax mi sa che devi cambiare una roba nel bios per la virtualizzazione ma basta rega ma mi chiede andava ma non mi fai io l'ho fatto io l'ho fatto che non l'ho fatto 3 7 8 ok veloce oh raga chissà buta ancora muore perché basta però avete fatto lo può fare c'è 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 ma ti avrei già ucciso non ti pare scusa e lui che colesterol ma ogni killer ma che sa di oh oh vedo questo c'è c'è l'ho trovato mentre facciamo una tasca rega ma chi è colestero ma non potete dirlo ma non c'è divertimento adesso non sto scherzando io non si manco qual è il tasto per per uccidere non sto scherzando io ho scherzando io non ho visto niente non so nulla ma però rega non votate se sapete ragazzi siete dei barboni ma proprio forte adesso adesso vedete che muoio e vedete che non sono l'impostore scusate il primo sono morto vabbè fate spazio e sì se non è che mamma una tasca dice inspect sample cos'è il sample esempio oddio cosa devo fare è quello cose strane ha fatto di fare una missione solo che non capisco lo devo fare parte perché l'hanno fatto di venerdì cielo posso fare una tasca tranquillo io ho quasi finito questa l'età ok non sono piaciute girare e scoperta che è il fusibile che tasca devo fare ho basso finito le tasche io ho la guarda come faccio dai anch'io ho finito le tasche visite card via fuori inserisci la legge a di costruzione e colore esterol c'è uno che si chiama con questo come si può e elettrica duccare già si dico sei simpatico fino a che mi stai lontano quando mi giri intorno per inseguirmi non mi piace più come fate io sisco io anch'io l'ho fatto da anni praticamente ritirarsi su tipo il coso perfetto tasca completa adesso devo andare a fare solo una cosa non è così come devi fare devi fare devi tirare tipo sul il coso lì e le emergenze quattro bottone poi mezzo per riportare la gente non ha senso sa questo ok ho finito tutte le tasche ragazzi io da 20 minuti ma un mezzo dubbio ce l'ho anch'io però lo tengo lontano ecco facciamo così ma nessuno è morto fantasma abbiamo chiuso c'entro io no ok no volevo vedere se rivivo ma io conta che ti avrei già ucciso se ci pensi bene ma io non so io ho avuto frosti a caso perché manco lo conosco perché l'unica persona che non si è fatta mai vedere per me lei a me seguiva a un certo punto mi ha iniziato a seguire questo scappare questo povero lo inviamo a caso e poi ne l'ho più visto e a lui tipo 100 per cento ma scusate se l'ho votato tre volte lo elimina sì lo sapevo mi seguiva troppo però non mi ha mai c'era vedendo la pubblicità di faccia bocco il codice io mi devo prendere il colore bianco fermi tutti no è carino ma bello tanti si è molto bello ma sta portando un po di spettatore scusco ma a chiudere e rientrare non sta andando bene siamo tredici questo casino per bluestar se ti funzionava è strano che adesso non ti vada a me di solito funzionava danni quello che sopra la testa si chiama il cappellino non veniremo anch'io ti conviene usare un telefono non ci voglio entrare a ma io sindaco è provato a uscire dal gioco rientrare io mi tengo sempre il mio cappellino bello questo rientro che abbiamo dentro o dentro altre persone quindi servere online e funziona corre ragazzo raggiunga c'è il bel scopo metti velocità so che non è da utilizzare in partita guarda come mi sto guardando mi sto muovendo per quello che non c'è un'epoca non c'è abbia le braccia ma non è che partiamo la partita j s r g c j s r g no no non so ma non farà entrare anche a me all'inizio però voi provate continuate c'è j s r g ma io io posso collegare chi si fa la skin rosa diventa il mio mito non puoi se ce l'hai già tu in prenoto quella gialla io non ce l'ho rosa c'ho quella rossa anzi dato che mi chiamo fantasma la faccio bianca voilà fa fatta fantasma guarda che bello che c'è io voglio arancione non so che cappello mettermi palloncino a me piace quello lì proprio il cappello rosso è carino metto il palloncino nido con le uova è fantastico e via invece avendo il game se non mi fa fare nient'altro e via vai online enter code j s comunque io mi sono fatto la skin rossa j s vabbè io non gioco oggi in casa no non mi fa entrare vado ciao ciao Dani ciao Dani io devo far due tasche qua andiamoci no obesi che l'ho preso veloci moriamo papà che sta a fare quella tec quella cosa moriamo se non facciamo queste queste veloci fate quella con il numero fatta io l'ho fatta quella con il numero come si chiama 0 5 1 5 7 fatto bed dai che ci dai capiamo a sabotaggio facciamo che non va è impossibile così ma sì che aspetta è possibile da fare è solo che noi non ci siamo mossi ma cos'è che hai detto ah no niente eh non ci siamo mossi dai va bene non vale il sabotaggio ma sì che vale come era il codice gs rg jd yo-yo adesso non mi fa entrare ancora mi scoprò a fare un'altra perché non può in ciena si entrava in quello in the game magari anche un'altra mappa perché questa qui non si sono più mappe sì no lascia qui aspetta raga la faccio io la ma la faccio io allora ma perché la cambiate è meno così bisogna reclamare un'altra v-p-a-h 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 e vabbè raga no non me la lascia aspetta devi spammare devi fare la ripetizione v-p-a-h devi fare la ripetizione finché non va è normale io l'ho fatto la prima volta vedi lo fai un paio di volte e ti fai entrare infatti anche me sei proprio arancione col formaggio adesso è entrato ma poi sì sì sono banana io possiamo entrare no aspetta lascia lascia il colore giallo al golden spuder poverino no è mio il colore zio sennò non faccio team raga ma io c'è un problema se io sono l'impostore lì io non so manco come si fa a disattivare l'aria cioè cosa vuol dire disattivare l'aria in senso togliere cosa che respira oh tutti lontani come si esce il saltamento sociale raga raga alle stelle via con quella banana un metto di distanza banana sindaco danni io ti sto seguendo perché devo fare la cosa anch'io anch'io muoviamo cos'è ah no che figata siamo qua tutto dove 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 perché non ci apri non si può salire non si può salire fatto ma è easy farlo qua cosa bisogna fare che cos'è questa cosa tutta rotta tutta rotta ah ma bisogna fare i numeri 1 2 3 c'è banana ah danni stai attento c'è banana non vedo niente tranquillo danni attento sta arrivando banana cosa devo fare qua eeeh se notano anche te per ora no 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 eh 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 sindaco così 9k buia eh ma ce mi dico scappa scappa danni nooo qui qui ce n'è una non riesca a prenderla che ciccio si si vabbè raga però le porte che si chiudono sono illegali io ne ho fatta una com'è è là cinque 9 3 4 4 ok fatto io io ho fatto la mia ok anche io vabbè 300 di ping 100 come c'erano essere tantini eh e però basta e golden chicken no ma 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 mi stessi mi segui eh fantasma ok fix che c'è ha spinto la luce ragazzi 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 non si vede niente ci penso io ci penso ma ci stanno andando anch'io eh ci vede niente sì lo so che hai visto tutto c'era lì pure sisco 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 votare quello che ti prego io so chi è posso dirlo tecnicamente sì è banana no puoi dire una supposizione per me è banana anche perché ho visto che ha fatto qualcosa di molto burro io ho visto solo che mi entrava qualcosa nella gore e mi si staccava la testa io ho visto soltanto qua e scusa perché se ancora arriva allora io ho visto tipo che hai staccato la testa magari c'è io ho visto questo foto tipo voto ma hai detto banana addio banana impara ad uccidere lo bellazzo l'avete detto l'avete detto e ma tanto c'erano l'indue quindi cosa devo fare questo play again è un attimo che io ho sempre la pubblicità di facebook non fate waiting for non fate exit ma chi vuole vedere ecco perché riesco perché io faccio exit ecco geni del mare io ci siamo tutti si ok guarda qual'era il codice ancora vp a h vp a h e lo sfami con un po' io di volta mamma mia che brutale tre bello amicizia lunga chiede un tipo visto marco gamer chiamato bene sì ma io non ho visto che c'era qualcuno dentro il disco fisco e volute tra mio fratello e volute tra eh ok ok partiamo noi poi abbiamo così l'auto di 10 c'è così problema che se dovesse mai capitano a me di fare l'assassino mi scoprono le due secondi perché guardano ma io non so come si fa l'assassino mi giuri che non sei taglio mi fido di te la porta è buonissimo che in golden si fanno questo mai best follower csi stradani vado a spudermi segue troppo mi stona sta cosa devo fare anche le queste ma io non ho questo qua scusate io sì se non le qua vuol dire solo una cosa danni ti sei fregato da solo balconi che sono boh aia ok eccola qua penso che se così sto vedo che c'è l'auto che no danni io sto stavo guardando un computer dove praticamente c'era tutto registro perché hai fatto così allora direi che io cosa danni cosa perché è sempre stato con me per me e per me golden perché troppo strano per me gold ma che io ho scampato le ciccio spero che vota bene ma perché avete un tutto si fa votato me e gold e gold sono sicuro al cento per cento perché quello che si è arrivato che lui adesso può ammazzare chiunque può ammazzare god è nel voto il ciccio non so ai livelli alla larga perché mi ha evitato gold ve lo dico ha votato meglio che si anche si scompo stranetto e cioè non è beh è sempre stato insieme non come siamo dicessi se è sempre stato strano io io lo voglio dire a me ma come che si come che si preme il pulsante raga il pulsante di prenderci sopra e rischia c'è solo secondo dov'è ma che mi ammazzino banana vieni ti seguo no corre che ho visto chiaramente chi era io non fa vedere guarda che non puoi vedere quando la gente sabota non hai capito se ti fermi te la chi è veloci e veloci non sono vecchi a chiedere andare io vi ho chiuso la porta e non si è chiusa la cosa sono qua da me spegnetelo comunque io ho visto sisco che stava facendo una cosa strana sopra tipo regola a trovare il pulsante sappiamo chi votare aspetta fantasma però un'anni stiamo insieme fermo fermo siamo insieme perché ci arriva golden a quello che stavo guardando io prima è lui perché è quello segnalato che sarebbe tipo 5 non ti dice e chi è grata che sono io ok fatto di qua venito venito veniti vieni 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 danni danni da questa parte non devi segnalare il pulsante 9 ci sta seguendo ok subito io non lo volevo dire ma golden si fermava ogni volta che prima che si attivassero il sabotaggio quindi è palesemente lui ma cosa vuol dire sto magnifico pc ma che ti dici chi è ma che mi ha votato golden vai 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 golden guardalo gg golden sorry golden for that golden you are perso no i don't sorry guardoso e chi poverino con il knife con il knife ma io devo rimanere su waiting for host don't leave qualcosa del genere è arrivato l'host è arrivato avvia subito vai 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 con mike knife kill you con mike desert seagull cremate ho capito già che è io ho già capito perché ve lo dico banana che è per te banana levati guarda vieni vieni ti indico chi è ti indico chi è è sto ciccione è sto ciccione il peso levati no Dani Dani fantasma volete la prova che non sono io venite guarda questo è sisco lo sto uccidendo vabbè potrei già fare la strage come no non vuol dire niente io devo farla questa un attimo fantasma mi sta inseguendo fantasma è se treccato ok treccato perché non sono io sto andando a fare le task ecco so che banana guarda guarda cosa c'è scritto cosa c'è scritto eh so chi è aspetta infatti guarda niente zio si si vuol dire voglio dire so chi è non vuol dire niente vuol dire quando passano sui sensori spazio non lo so per me raga è fantasma l'ha detto il pc ma detto il pc ho capito che ho capito che io ho capito che ma io come ti faccio essere se sono appena morto mo me lo spiegate vieni qua danni danni vieni qua guarda danni vieni qua danni vieni qua allora tu vedi tu vedi sono io fantasma passare fantasma passare e poi vieni regalo andate in alto e poi vincirà all'ufficina non fa ma all'ufficio il sindaco eh raga è però l'ho visto l'ho visto posso dire che l'ho visto è sindaco anche io l'ha passato davanti a noi ce l'ha passato adesso però mi arrabbio adesso però mi arrabbio allora prima prima all'estè c'erano tre persone prima c'era all'estè c'erano tre persone ha ucciso me adesso c'era sindaco tre persone ha ucciso ancora me è staccato la testa non mi soccorre io sono cosa sono lo scudo vabbè sindaco è un po' stato giamato votate tutti i sindaco tutti ragazzi avete votato io avevo capito già dall'inizio però ho fatto 4 kill cioè sindaco oggi subito è un po' ignoranti ammazzalo davanti a tre persone si chi ha visto però non dirò io non ho visto ad esempio che ne sa poi si sa poteva ammazzare infatti ragazzi 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 facciamo che facciamo che non si dice quello che si vota non si dice proprio niente non si dice io voto io voto sempre ci state bello cosa è più bello se voi avete visto lo votate lì vedi la gente che passa e vedi che era passato era passato fantasma poi sindaco poi fantasma morto e ripassato sindaco nello stesso punto e papatucco ecco e per sono i sensori della mappa quelle si dice chi passa da ogni parte mancano due raga che è fantasma arrivato manca una con despizza manca non bene join ma quando non ci dirà la vocale riuscito mi è mi era quittato si non non ha quittato una bella una bella ma vabbè andiamo andiamo 321 ecco crewmate banana vieni con me vieni con me banana no 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 ti vedi raga perché io sempre una questa all'inizio cioè non so perché ma che viene ancora inizio non vuole stare con nessuno sisco sisco io sono sisco lo servo si allontani per favore rimaniamo qua finché non può qualcosa io non mi avvicino non mi avvicinerei controlla la porta vieni levati giovini scritto tutto c'è domanda mia come parli si so chi è so chi è so chi è banana guarda ti dice tutto chi è qualcuno che mi segue mi sento seguito hai capito se quelli passati sono tre che cacchio veloce veloce corretti raga no no raga ho il modo per salvare la situazione guardate raga veloci raga fate che ci sto andando raga io non posso sono troppo lontano sarebbe inutile eh ho visto ho visto ho visto eh zitti eh ho visto chi è ma dai non può dirlo non può dirlo non può dirlo ma mi hai confidato non può dirlo non può dirlo stai zitto eh eh io voto eh uno meno vedrete poi io voto il blue non è ma ci sono rimasto male io schifo come sempre schifo schifo si doveva prendere era lui era lui era lui siete degli attori pessimi erite ma forse te la sei presa con me scusa siete degli attori pessimi lo sapevate dall'inizio che ero io eh no avete guardato la live il pc c'è il pc che dice ti passa però mi sono dimenticati di guardare quelli verdi che sono la live attiva quelli blu quelli che hanno qualcosa eh fantasma mi ha detto che mi ha visto quando non mi ha visto sì ti ho visto che hai visto eh che hai visto ma sei passato un quarto d'oro dopo usai visto guarda che sono un bel blade sono un bel blade io ma cosa ne manca uno eh devi sapere che io non avevo la mia sinistra tutti e lefno e non avevo la tenuta aperta tu eri killer ti manca dove manca uno sì banana ma è cresciato è cresciato sindaco marco 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 il fratello di sindaco no ci siamo tutti io essere presente ci siamo tutti no ma tu fratello sindaco è mancato marco non c'è anche a mio fratellino sì eh si attacca infatti sta arrivando sì due minuti e viene Marco e allora si arriva a fare una partita e di un po' te fai prima saltare sì vabbè dai entrare la prossima ma perché si possono comprare schemi sto gioco poi entra nella prossima partita schemi vabbè vabbè perché fa tu perché fa tu un segno così papà launch pod quel cappellino che è in testa papà mi ricorda una cosa è lucky look chi è l'ho già sentito 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 di buona papera se non mi ricordo male lucky you che una papera esatto bravo a quello che che non mi spia mai dalla wiki dai però vai easy io sono morto dai c'è fate qualcosa sai già sei già dov'andare sei già dov'andare nel nostro compo nel nostro compo nel nostro segreto vai ecco qua oh allora è passato sisco poi è tornato indietro poi è andato sindaco è andato sindaco e poi è tornato è andato anche sisco e poi è tornato e poi è tornato oh oh no ha noto no aggiustiamo aggiustiamo 5 1 3 6 5 4 1 9 si fatto ho fatto raga raga c'è sta cosa impossibile da fare 2 6 4 addio danni no ah che schifo ciao amico mio sono da parte 3 quindi 5 4 6 che schifo è vulgare sta cosa 2 8 9 3 2 8 per me muoio perché non riesco a fare la task guarda non è fatto non è non è sto volendo nel vuoto 259 vado viene scritto use cos'è che vuol dire no ragazzi non lo fate se ne è che sia davvero che ci sia abbassando noi faccio lo sto conoscendo vabbè però no regalo ma nessuna banana io sono passata miglior mondo ma nessuno l'ha fatto ma io ero qua da aspettare banana ci sei ancora dov'è il tasto dov'è il tasto non lo so io non so dov'è è stato in caffetteria e dov'è la caffetteria e dov'è la caffetteria la caffetteria praticamente no c'è praticamente trovato 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 no lo sapevo di nuovo che ci di nuovo l'ultimo l'ho ammazzato al volo che ciccio cisco ma per due volte gli fila ma siamo seri io sapevo che eri te si lo so che lo sapevi e poi ci sono io che non l'ho mai fatto anche se rimani qua la scritta rossa dall'occhio ti vedo lo sesso io a questo babasuto lo so che te lo sapevi cisco dove anche altri lo sapevano cos'è chi questo è il bar babasuto eh si ma ogni round ne perdiamo uno adesso siamo in 5 infatti raga non c'è sindaco usa entrando sindaco ancora magari raga io faccio tutta quest'acqua si aspetta no aspetta no dove devo ancora fanno eccomi qua vai avvia ok andiamo vai start start se non sono impostore adesso esplodo cosa andiamo facendo shhh no dai my guys ASMR ASMR raga come si capisce che se sei impostore io non ho ancora capito beh te lo dice all'inizio anziché dai un po' più silenzioso ti dice impostore ma sto parlando vabbè dai un po' più silenzioso eh vabbè grazie grazie scusi banana passi danni mi sembra un po' ciccio vabbè ok ok vabbè poi non ok non vedo cosa come dire sono lontano si è passato sindaco anche lei che vabbè passato sisca è ritornato che vabbè è inondato e sindaco è ritornato banane è andato e sindaco è ritornato sembra troppo strano questo Danilo tranquillo vedete qua belle foglioline dame 500 euro no sisca 500 un po' esagerato sisca si sento per te è impossibile ecco va dentro qua dentro guardami le spalle guardami le spalle apri apri mi roma sono rimasti in quattro mi si scollegato ma ok fatto io ho fatto creatore 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 sapete che anche barba sta porta perché non mi parla come passa io so che 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 io te lo sappiamo che è sisca vero ascoltate so che volete buttare me ma altitutto dove avete visto le prove altitutto c'era un cadavere c'era un cadavere si è ridita da parte si è un po' palici sto facendo le cose sai ah gli allenamenti stai facendo e poi è anche strano che non ho detto oh guarda un cadavere ma che cacca non vede se sto accendendo le queste vabbè dai votatemi io non ho visto niente io non ho visto niente perciò dai perché il fantasma non ha votato nessuno proprio subito ma dov'è ah no dov'è ah è questo ma dov'è ce ne sono due al reattore al reattore e dove è attore ah ok questo l'ho fatta dai chiusa volta e contaminazione poi l'amore si bravo che bab che bab che bab quanto pare tre secondi raga io lo sapevo raga un cadavere raga un cadavere wow chissà chi sarà il cadavere forse il mio vabbè dai fate quello che volete adesso l'ho visto ti ha visto il fantasma di allestero io non voto visto che tutti quanta la vota non deve andare in fallito il voto ma il fantasma esiste o no per me è andato fiega fantasma 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 se non torna 90 secondi di aspettare sono lunghi e no e si ma poi comincia il time si raga ma lo sapete che avete tantissimo barato perché non è possibile votate tutti gli altri per gli altri che sono io votate me ma non è possibile facciamo un'altra partita voglio essere ripostore io devo andare facciamo l'ultima partita ciao ciao però adesso non è possibile come facete come facete non ho capito dall'inizio ah come hai fatto è perché chi è che hai ammazzato all'inizio di vicino alla porta sì all'inizio eravamo io e novellino l'avrà di accanto novellino l'ho ammazzato alla fine novellino lo so ma all'inizio quando mi è arrivata una spada in gola pensate a parte che comunque ti ho ammazzato te non l'hai visto quindi come l'ho visto ma avevo diciamo una sicurezza del 90% dai dai ogni scusa è buona allora sì guarda la tua posizione sono stato bravo sono stato zitto zitto io ho detto che ho fatto lo schema non ho detto niente però è bello è bello sto gioco dai adesso quando lo schema lo fai sempre circola live è andata bene ah sì discreta sì ah scusate mi è addormentata stavo girando per la mappa con un pistola come 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 si chiama la è suda chi è suda chi è e novellino suda chi è come fate voi voi vogliamo scommettere novellino aspetta ma se io sono l'impostore con la dover di armi tipo è palese è lui no no raga sono serio va che dov'è che si prende lo sante dov'è che si prende lo sante dove si prende lo sante dove si prende lo sante raga dove la caffetteria non so io non ho mai fatto tipo fantasma dove la scappo ecco ah ma c'è anche fantasma ma chi mi ha ucciso ho peso chi mi ha ucciso ma se sono morto ma se sono ma se sono non vai dai dati la calmata ma perché è tutto crepato perché sono morto Marco gamer è margama se la mente solo uno non ha capito ma io ho votato Marco sì io ripeto solo uno non ha capito perché perché se c'è 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 aperto non è sabotaggio non è sabotaggio amici raga andato a disattivarlo rip sisco porca ammazzato una fiancate ma ti puoi riportarlo non lo è ma dato so già chi è ho capito ma fanno così la vuoti anche io ma perché office lock va sapendo che vabbè riporti cavalli sai che te lo puoi sapere è un po' palese che so perché io lo so perché l'ho votato prima no 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 ah ho capito non dare indicazione dai faccio come avete fatto con voi con me ho capito è molto facile è sto giro fantasmino la fa il bulletin ma non c'è fantasma fuori fuori onda va bene ragazzi io direi che per stasera può anche bastare è stata una bella live ragazzi vi ricordo di seguire il canale oddio che bisogna essere meno in quattro e siamo in quattro vi ricordo di seguire il canale youtube e la pagina instagram grazie per tutto e ci vediamo alla prossima ciao 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 ciao